Rimpasso di giunta al comune di Giulianova cambiano deleghe e assessori. Il sindaco Ivan Costantini ha così ufficializzato la nomina di Paolo Giorgini, assessore alle politiche comunitarie, verde pubblico, società partecipate ma anche alla cultura, fino ad oggi nelle mani dell'assessore Giampiero Di Candido. Giorgini sostituisce il dimissionario Federico Taralli. La delega allo sport viene invece assegnata al consigliere diverso Giulianova Livio Persiani, mentre la programmazione e manutenzione delle strutture sportive va al consigliere di Giulianova in movimento Matteo Carpineta. Cambi di deleghe anche per la vice sindaco Lidi Albani che sovraintenderà la protezione civile e gemellaggi mentre cede la delega alla democrazia partecipativa che va al consigliere della lista al centro della città Antonella Guidobaldi. Con la nomina di Giorgini in consiglio comunale entrerà come consigliere il medico giuliese Andrea Cecchinè, primo dei non eletti della lista Giulianova Turismo. Le decisioni prese oggi non sono il frutto di calcolo numerico o di una ripartizione degli incarichi politici, tiene a precisare il sindaco Costantini, piuttosto si basano sulla qualità degli uomini. Il primo cittadino di Giulianova ringrazia l'ex assessore Taralli per l'ottimo lavoro svolto e dà il benvenuto in giunta all'assessore Giorgini, imprenditore duomo di indubbie capacità risolutive ed organizzative. Ad affiancare Giorgini, soprattutto nell'ambito della cultura, ci sarà anche il consigliere Valentina Piccioni. È stata inoltre annunciata la nascita di una consulta dello sport e ribadito l'impegno dell'intera amministrazione comunale a far sì che vengano ultimati nel più breve tempo possibile i lavori del Palacastrum al fine di ospitare le gare in casa della polisportiva Amicacci. Grazie. 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 Grazie.